Questo lavoro è nato in collaborazione con Arti Varti, anzi se devo dire il vero l'hanno iniziato Arti Varti, poi hanno portato anche me a bordo di questo viaggio. Quello che succede nel nostro modo di lavorare è che io porto la visione, la struttura anche stilistica o anche l'idea di struttura di spettacolo, anche magari forse di contenuti, come si svolge il dramma, eccetera. Però è come se io lo mettessi là, in scena, lo metto nel palco e assieme questo diventa un laboratorio. Dunque attraverso l'improvvisazione, attraverso le loro sensibilità mi danno dei ritorni e su questo poi si fa la scrittura, la scrittura dello spettacolo. A volte anche di stile, perché insieme a volte guardiamo le cose, diciamo non è meglio sto telo, metterlo così, questo praticabile muoverlo colà, dunque vedere in cinque è molto meglio di vedere in una persona sola perché c'è molto più materiale sensibile che può dare la propria parere. Ovvio il conduttore del battello sono io e poi devo portare in porto la nave, questa tra l'altro è una riga che viene detta nello spettacolo, il battello arriva in porto. Grazie.